Sveglia, Zack! Zack e Miri sono amici da sempre. Zack! Posso entrare? Perché non c'è acqua? Ce l'hanno chiusa. Aiutami a togliere questa roba, usa l'acqua del water. C'è la pupù dentro. La parte dietro del water! Tra un po' non avremo più un tetto sulla testa. Perché ti fai sempre in quattro per quella ragazza sapendo che non te la darà mai? Mi paga metà dell'affitto, mi sveglia al mattino. Perché complicare le cose con il sesso? Tu che fai? Sei un attore. Niente che abbia visto? Che film hai fatto? Oh, soprattutto film per uomini. Tipo Arma Letale, tipo quello? No, cos'è tipo Arma Rettale. Cos'è? Un sequel? Se non paghiamo l'affitto ci tolgono l'appartamento. Questa è la classica situazione in cui una persona disperata si decide a fare sesso per soldi. Che c'è? Facciamo un porno. Ci hanno detto che hai un particolare talento. È una cosina che ho imparato facendogli addio al celibato. Carine le bolle. Ok, andiamo a fare un porno! Ok! Azione! I più grandi amori Nascono... Deve essere amore, giusto? Non so se è la cosa giusta. Secondo me sì. Zack e Miri, amore a primo sesso. È una cosa incredibile! Ero venuto a consegnare del latte e guardate che sta succedendo! Da giugno al cinema!